Grazie a tutti. Sia nel classico corso di studi in lettere, sia al Dams e ci sono colleghi che fanno altrettanto in altri corsi di studi perché effettivamente è una disciplina che chi si iscrive alla Scuola di Studi Umanistici in uno dei vari corsi possibili troverà lungo il proprio percorso. Questo non implica che la mia lezione di oggi sia esemplare di quel che incontrereste a iscrivervi alla Scuola di Studi Umanistici. Mi prendo la responsabilità solo dei miei corsi. I corsi dei colleghi hanno un ventaglio molto variegato di temi e di metodologie. Quella di oggi vorrebbe essere una lezione in cui abbiate modo di verificare cosa può voler dire affacciarsi a un corso di studi di aurea umanistica in cui si insegna anche la letteratura italiana. E ho scelto un tema a me caro, un testo a me caro, l'Orlando Furioso, anche perché è un classico, è uno di quei testi che nel percorso degli studi superiori in qualche modo avete incontrato. Io non so se abbiate incontrato molto e quanto il personaggio di Bradamante però. Chi ha avuto modo di studiare un po' il Furioso può forse avere un'idea di chi è questo personaggio. È uno dei molti protagonisti di questo poema, poema che come ben sapete comincia preannunciando il canto di donne, cavalier, arme, amori, cortesie e audaci imprese. È un inizio plurale, è un inizio molteplice. Non si avrà un solo eroe, una sola avventura, ma una ampia, variegata comunità di personaggi che fra loro si intrecciano, si avvicinano, si allontanano, si scontrano, si incontrano e interagiscono fra di loro in un testo molto vario, molto labirintico, perché mette a contatto e a confronto diversi punti di vista sulla vita, sul senso della nostra vita. Ci sono moltissimi personaggi, ognuno dei quali ha un desiderio, ha un progetto di felicità, uno scopo nella vita che vuole raggiungere e che normalmente si incontra e si scontra con i progetti altrui, creando effetti vari di alleanze e di nemicizie. Un po' come accade nella vita di tutti i giorni, un po' come accade anche nelle forme di narrazione e di intrattenimento a cui siamo più abituati. Il Furioso è un prototipo di quelle che oggi sono, per molti aspetti, di quelle che oggi sono le serie TV, dove si hanno molti personaggi con cui simpatizzare, molti modelli diversi a disposizione, e un modello narrativo che riprende, interrompe, sospende, riaggancia continuamente fila alternative, parallele, che poi si riuniscono fra di loro. Una delle più importanti è quella che segue le avventure del personaggio di Bradamante. Il personaggio di Bradamante esiste prima dell'Ariosto, non lo inventa Ludovico Ariosto, esiste già alla fine del Quattrocento, voi ricorderete che Ariosto è un autore del primo Cinquecento, ma questa figura che immediatamente si proclama ambigua, androgina, ibrida, già nei frontespizi, come questo, di Tardo Quattrocento, questo è un opuscolo fiorentino del 1495, ci mostra una Bradamante che è sì donna, ma è anche guerriera, è cavaliera, è appunto su un cavallo, munita di un bello spadone, che ha giusto appunto sconfitto e sottomesso un altro guerriero. È una di quelle figure che inevitabilmente creano un cortocircuito negli stereotipi di genere, perché è una contraddizione in termini, è donna guerriera, fa entrare in contatto due dimensioni teoricamente separate nella società dell'epoca. e in fondo anche nella nostra società ci sono ancora ruoli di genere che percepiamo come esclusivi del maschio o della femmina. Bradamante è uno di quei personaggi che l'epica conosceva già nell'antichità, che crea appunto una scintilla che può provocare detonazioni piuttosto dirompenti negli stereotipi culturali e sociali dell'epoca. E questa cosa la vediamo in realtà fin dall'inizio, perché non so quanti episodi conosciate del Furioso, ma probabilmente il primo canto l'avete letto. Quanti di voi ricordano vagamente il primo canto? Non che vi interroghi, eh, non è che poi vi chiedo. Allora che succede all'ottava 47? Il primo canto è quello in cui Angelica fugge, c'è questo personaggio femminile che ha una preda, in quanto donna bella è desiderata, e in quanto oggetto di desiderio viene inseguita da dei maschi. Il primo è Rinaldo, poi c'è Ferraù, e poi arriva anche Sacripante, Sacripante che inizialmente piange disperato al pensiero che qualcun altro abbia colto il fiore di Angelica e lei non sia più illibata. Quando poi Angelica, con effetto scenico, sbuca fuori da un cespuglio di rose, Sacripante pensa bene di prepararsi al dolce assalto, dice così Ariosto, ma mimando la mentalità di questo maschione, che pensa subito a un assalto. di tipo sessuale, ha una violenza carnale, di cui Angelica non è affatto consapevole, ma che viene sventata dall'arrivo di un cavaliere. Ecco per il bosco un cavaliere venire, il cui sembiante, duom, gagliardo e fiero, candido come neve il suo vestire, un bianco pennoncello a percimiero. Il suo sembiante, la sua apparenza, è duom, gagliardo e fiero. Ed è così gagliardo da disarcionare immediatamente Sacripante, che da bravo macio gli si para subito davanti, convinto che il sopraggiungere di un altro cavaliere significhi che qualcuno vuole sottrargli la sua preda, Angelica, e questo cavaliere lo disarciona e se ne va, perché ha ben altro da fare. Non sappiamo chi sia, ma ci viene detto poco dopo dall'arrivo di un messaggero che spiega a Sacripante che questo è in realtà una donna, è gagliarda ed è più bella molto, nel suo famoso nome Anco Tascondo, fu bradamante quella che t'ha tolto quanto onor mai tu guadagnasti al mondo. Perché Sacripante è disonorato dall'aver perso, ma è doppiamente disonorato dall'aver perso contro una femmina, contro una donna. Questo lo umilia a tal punto da renderlo muto per diverse ottave. È il primo episodio in cui vediamo in azione bradamante, il primo episodio in cui bradamante già ci si mostra incaricata di una missione a difesa delle donne contro le brame, le bramosie maschili. È una paladina delle femmine, potenzialmente, e attivamente, perché nel resto del poema questa cosa succederà varie volte. In più occasioni bradamante si troverà a difendere donne in pericolo, avere questo ruolo di donna sì, ma donna armata, capace di contrastare il maschio sul suo stesso terreno della forza bruta, della violenza. Cosa che altre donne non hanno a loro disposizione. La vediamo anche, l'altro suo ruolo, l'altra sua grande missione, quella per cui ce la ricordiamo di più, è che ha una missione una missione genealogica, deve fondare la stirpe degli este, cantata da Ariosto, che ha appunto negli este i suoi protettori. C'è una funzione encomiastica, di elogio di un signore, che ce la rende subito un po' antipatica, penso, no? Cioè, in fondo, ha questa funzione di esaltare i potenti, di lodare i propri signori, la può appiattire in una grigia funzione adulatoria. E c'era questo rischio, c'è sicuramente, ma Ariosto lo schiva ben presto, non si, certo che si occupa della funzione di Bradamante come capostipite degli este, ma gli interessa soprattutto sfruttare l'occasione di avere un personaggio femminile che deve essere proprio per questo scopo un modello di virtù, un modello di comportamenti, di qualità, di risorse umane che le permettono di ottenere quello che vuole dalla vita, che è uno scopo che tutti abbiamo, che tutti hanno dentro al furioso, ma che pochi raggiungono. Bradamante ce la fa, Bradamante riesce con molte difficoltà attraversando tutte le avventure del poema, riesce alla fine a ottenere il suo scopo principale, cioè coronare il suo sogno d'amore e sposare Ruggero. Certo, non è un sogno troppo femminista, di emancipazione femminile, ma è di fatto la realizzazione di quello che lei desidera, è il raggiungimento del suo oggetto del desiderio, che in questo caso è appunto Ruggero. Questa situazione per cui Bradamante insegue Ruggero, anzi, Bradamante fa molte cose che la mettono nella condizione di salvare Ruggero da una serie di vicissitudini e di disavventure, crea un po' di scompiglio nei lettori dell'epoca. Io vi ho scelto un solo lettore per farvi capire quanto questa operazione di Ariosto non sia per niente pacifica, non sia scontata, né nei decenni in cui scrive, che sono i primi decenni del secolo, né nella seconda metà del secolo, né temo per forza neppure oggi, no? Il lettore che ho scelto è Torquato Tasso, il buon Tassino nella sua apologia in difesa della Gerusalemme liberata, ormai 50 anni dopo dalla morte di Ariosto, contesta la caratterizzazione di Bradamante perché dice che senza dubbio sarà più convenevole al maschio la parte dell'amante e alla donna quella dell'amata perché l'eccellenza delle donne consiste nella bellezza la quale muove ad amare siccome quella degli uomini è nel valore che si dimostra nelle operazioni fatte per l'amore e questi sono quelli che chiamiamo stereotipi di genere le donne hanno alcuni campi di eccellenza la bellezza le donne possono essere belle su questo nessuno contesta e il fatto di essere belle muove il maschio ad amare è il maschio il principio attivo la donna deve solo subire l'amore del maschio il quale si attiva e compie molte operazioni col suo valore il valore il coraggio la forza l'intraprendenza l'audacia sono tutte virtù maschili la donna deve star ferma essere bella e farsi amare stimolare l'eccellenza maschile questa è la mentalità di Tasso ma è la mentalità di tutta un'epoca e bisogna poi non so possiamo parlarne di quanto è ampia quest'epoca quanti secoli copre se arriva fino a noi e in che forme ancora ci arriva quindi il problema di Bradamante e Ruggero per Tasso è che Bradamante è quella che ama e segue Ruggero e cerca di trarlo di prigione e fa tutti quegli uffici e quelle operazioni che parrebbero piuttosto convenevoli cioè adatte e decorose per un maschio non per una femmina no? c'è una sorta di reazione proprio di atteggiamento reazionario contro questa inversione dei ruoli cioè un richiamo all'ordine questi due non si comportano come devono comportarsi i maschi e le femmine non è questo che ci aspettiamo dal loro ruolo di genere allora io vi ho scelto semplicemente due episodi in cui e uno in particolare in cui la vediamo vediamo che Bradamante davvero scardina questi pregiudizi e vediamo quanto Ariosto sia consapevole della dello scandalo della della provocatorietà di questa sua scelta e delle implicazioni niente affatto scontate né alla sua epoca né in fondo nemmeno oggi di certe caratterizzazioni di aver scelto un personaggio femminile così ibrido così androgino e in fondo così versatile Bradamante il suo scopo di ottenere l'amore di Ruggero lo raggiunge dicevo attraverso avventure varie e in queste avventure mette in campo diverse virtù diverse qualità c'è la forza c'è la bellezza ma c'è anche l'astuzia a volte c'è un'astuzia anche fraudolenta capace di fronte a personaggi malvagi di essere più malvagia di loro c'è la diplomazia c'è la politica c'è anche l'acquiescenza ad alcune regole sociali che a volte conviene accondiscendere per ottenere quel che si vuole quindi anche una dose se vogliamo di ipocrisia ma di scaltro adattamento alla situazione alle condizioni al contesto in cui ci si trova ad agire però questo suo ruolo di donna guerriera viene esaltato in particolare viene esaltato più volte le due occasioni che le danno una valenza ideologica particolarmente forte sono queste questa è al canto 35 ed esisteva fin dalla prima redazione del Furioso voi vi ricorderete che il Furioso ha tre edizioni la prima nel 1516 ho sentito 16 ottimo la seconda nel 21 la terza nel 1532 benissimo quindi tra dieci anni ci sarà il decennale il cinquecentenario il mezzo millennio dall'edizione e l'anno dopo sarà anche il cinquecentenario dalla morte di Ludovico Ariosto quindi voi vi potreste anche preparare a essere i futuri esperti domani di Ariosto e cogliere al balzo l'occasione del cinquecentenario ma al di là di questo c'è c'è questo episodio che esisteva già nel 16 fin dall'inizio è un'occasione in cui Bradamante si fa ancora una volta paladina delle donne perché qui viene chiamata in soccorso da Fior di Ligi è una fanciulla il cui amato Brandimarte da non confondere appunto con Bradamante è stato catturato da Rodomonte questi sono nomi creati da Boiardo dal predecessore di Ariosto che con l'invenzione di nomi particolarmente roboanti si compiaceva alquanto quindi Rodomonte che non è chiaramente un personaggio umile pacifico ma è un prepotente è un temibilissimo guerriero una sorta di gigante che non ha paura di niente di nessuno e che vive di continue prepotenze nonché di lunghi monologhi misogini è protagonista di una lunghissima tirata contro le femmine quindi incarna una certa mentalità qui si ritrova a fronteggiare Bradamante che appunto per aiutare Fior di Ligi si reca al ponte su cui Rodomonte anche per comodità di rima si scontra con chiunque passi di lì lo disarciona lo imprigiona e gli appende l'armatura come vediamo in questa illustrazione Bradamante lo sfida Bradamante lo sfida e gli dice che appunto se dovrà perdere Rodomonte dovrà liberare tutti i suoi prigionieri Rodomonte accetta la sfida ma siccome si accorge che ha di fronte una donna oltre che una guerriera o meglio anziché una guerriera nella sua ottica si concede alcune battute che possiamo tranquillamente catalogare per sessiste perché le dice che va bene se lei vince fa quello che chiede ma se dovesse stare di sotto lei ma s'attetto tocca star di sotto come più si conviene e certo so che fia dice lui alla donna è appropriato star di sotto sia socialmente sia lo capiamo dall'ottava 47 anche da un punto di vista di sessuale qui si dice io sono di tal valore di tal nerbo di tal forza fisica che da aver non dei da andar di sotto al sdegno che non ti dovrebbe dispiacere starmi sotto dice Rodomonte quindi c'è un atteggiamento macista maschilista sessista possiamo etichettare in questi modi senz'altro cioè Ariosto sta caratterizzando in questo modo la sua mentalità Bradamante reagisce sorridendo ma d'un riso acerbo che fece di ira più che d'altro segno e non risponde a Rodomonte non risponde con le parole non contro argomenta non controbatte la mentalità di Rodomonte prende campo prende la rincorsa e si lancia contro di lui col suo destriero e lo disarciona lo fa cadere giù da cavallo e giù dal ponte e a questo punto gli si può rivolgere con una battuta or puoi disse veder chi abbia perduto e a chi di noi tocchi di star di sotto questa è la donna guerriera che umilia la tracotanza sessista del maschio e gli impone non tanto degli argomenti teorici ma la prova fattuale della possibilità per una donna di sconfiggere il maschio di pareggiare o superare il maschio anche in campi in cui il maschio si sente di poter serenamente presupporre un'eccellenza di potersi credere superiore alla donna questa cosa esisteva già nel primo furioso nel secondo nell'ultima redazione del furioso si aggiunge un episodio che è stato messo sotto i riflettori dalla critica soprattutto dalla critica femminista del novecento perché effettivamente mette a tema questioni ancora più complesse questioni di genere di identità e di ruolo di genere ed è quello della rocca di tristano che voi tutti conoscete a menadito no cioè di solito non è nelle antologie neanche questo credo qualcuno di voi lo conosceva già quello della rocca di tristano qualcuno lo conosce no appunto perché del furioso si leggono sempre gli stessi tre o quattro episodi che mi dicono anche non sono proprio i preferiti nel programma di letteratura italiana degli anni del liceo sì allora guardiamolo un attimo questo episodio della rocca di tristano qui vediamo un'altra illustrazione cinquecentesca un po' sgranatella in cui riconosciamo Bradamante dal fatto che dall'elmo escono dei lunghi capelli biondi e sono un fin dalla Camilla Virgiliana sono uno dei dispositivi per cui la donna guerriera si rivela femmina al togliersi l'elmo e accadrà la stessa cosa a Bradamante in questa avventura che si fonda su un problema di regole che una società si è data che un luogo si è dato questa rocca di tristano è un castello in un luogo in un'area per miglia e miglia disabitate è l'unico luogo in cui si può pernottare Bradamante sta come sempre andando alla ricerca di Ruggero e si ritrova a dover dormire lì se non vuol dormire all'addiaccio ma ci sono delle regole per guadagnarsi la stanza cioè il diritto a stare a pernottare e sono se si è maschi combattere col maschio che c'è già alla rocca se c'è un maschio prima di noi si dovrà sconfiggere in duello se si è femmine è previsto un concorso di bellezza e questo è già chiaramente una la proposta di stereotipi di genere di regole che corrispondono a quello che abbiamo visto dire a tasso in fondo la donna eccella in bellezza e quindi se vuole avere dei diritti se vuole ottenere qualcosa dalla vita è su questa qualità che deve fare affidamento ed è una qualità di nuovo passiva perché è un concorso di bellezza che saranno degli uomini a giudicare il maschio può attivamente guadagnarsi i suoi diritti combattendo contro altri maschi quindi c'è anche questa mentalità per cui c'è una aggressività maschile che si asseconda Bradamante arriva armata e quindi la prendono per un guerriero ci sono tre maschioni che dormono alla rocca di Tristano che escono contro di lei e vengono tutti e tre immediatamente sconfitti e umiliati di nuovo zittiti nella loro superbia Bradamante entra alla rocca e a questo punto si toglie l'elmo e cadono sparsi giù per le spalle i suoi biondi capelli e la rivelano per donzella non men che fiera in arme in viso bella e allora si crea un piccolo problema giuridico al castello perché al castello c'è un'altra donna che ha vinto il diritto di stare grazie alla propria bellezza il governatore del castello adesso sa di avere due donne dentro alla rocca e fa partire il concorso di bellezza perché sono due donne e allora questo loro diritto a stare si giudica con la bellezza e benché sia inculta come si dice alla fine dell'ottava 99 cioè struccata e anche un po' spennacchiata Bradamante vince a man bassa e la povera Ullania la donna che pernottava lì si vede scacciare dal castello ma a questo punto Bradamante coerentemente col suo ruolo di paladina delle donne interviene ha il coraggio di opporsi alle decisioni dell'autorità pubblica che in questo caso ha sentenziato una azione e Bradamante la rifiuta la contesta con una serie di argomenti anche tecnici legali ma l'argomento che ci interessa di più arriva ve l'ho condensato arriva in queste due ottave su cui chiudo perché sono quelle che ci aprono le questioni più interessanti Bradamante dice o più bella o me in che io sia di lei non venni come donna qui né voglio che siano di donna ora i progressi miei dichiara immediatamente che il suo la sua identità di genere il suo ruolo di genere nella società nel momento in cui lei si è presentata alla Rocca di Tristano non era femminile non può essere giudicata come femmina perché non ha agito da femmina e lo chiarisce ancora di più all'ottava 103 intanto premette che ci sono uomini con i capelli lunghi l'aspetto esteriore i caratteri esteriori della nostra identità di genere sono ambigui sono fluidi si può essere maschi pur avendo i capelli lunghi si può essere donne anche con i capelli corti quindi questo non vale a giudicare chi abbiamo di fronte cosa vale allora Bradamante lo dice chiaramente nei versi centrali dell'ottava 103 se come cavalier la stanza o come donna acquistata mambia è manifesto è chiaro a tutti se io mi sono conquistata i miei diritti come donna o come cavaliere li ho conquistati come cavaliere quindi perché volete darmi nome di donna se di maschio è ogni mio gesto e questa è la questione più delicata e più e più dirompente dell'episodio della Rocca di Tristano e del modo in cui Ariosto qui affronta le questioni di genere perché Bradamante intanto sta disaccoppiando gli stereotipi di genere non è detto che una donna eccella in bellezza non è detto che le armi siano un campo di esclusiva pertinenza maschile si può mischiare le carte e questo sbalestra il binarismo della società tradizionale e è anche disaccoppia il fatto che una femmina debba essere una dama e non un guerriero e volendo di conseguenza che un maschio debba essere un guerriero e non una dama chi l'ha detto ma soprattutto ne fa una questione di performance di gesto di non come si nasce biologicamente il sesso biologico non determina la nostra identità di genere e nemmeno lo determina la nostra educazione necessariamente quello che qui è messo al centro dell'attenzione è il gesto è quello che si fa che si riesce a fare è un invito a determinare la propria identità per qualunque individuo a costruire assemblare la propria identità e il proprio ruolo in società non in base a degli stereotipi non in base a quello che il pregiudizio ci consegna di generazione in generazione ma mettendosi alla prova facendo le cose agendo nel mondo e costruendo in questo modo la propria identità dimostrando di essere capaci di primeggiare anche in campi che la tradizione che l'ideologia dominante ci dice che ci sono preclusi che sono appannaggio di qualcun altro non dare per scontato niente ma mettere alla prova quello che il passato ci ha detto essere la verità questo vale per gli stereotipi di genere vale anche per il modo in cui si può affrontare la letteratura in cui si possono rileggere anche classici di lunga fortuna dove alcuni aspetti non necessariamente sono stati colti e in cui magari dei presupposti di alcune questioni che tuttora ci appassionano e questo è uno dei ruoli che credo la letteratura abbia e che la rendono così affascinante da indurvi tutti quanti a iscrivervi alla scuola dei studi umanistici della formazione chiudo qui però se ci sono domande grazie 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 grazie